Grazie a noi in Emilia Romagna è emerso lo scandalo vacanzopoli, cioè vacanze, cene pagate ai giornalisti dall'azienda di promozione turistica della Regione in cambio di articoli dove si racconta l'eccellenza dell'Emilia Romagna. Eccellenza oppure tentativo di imbonirsi la stampa, la Procura grazie a noi ha aperto un'inchiesta. Noi vorremmo che la Regione spingesse la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico, locale, possibilmente sul ferro o comunque elettrificato. Ciò che fa la Regione è esattamente l'opposto, stanno puntando molto sulle grandi opere autostradali, noi puntiamo sulla riqualificazione invece di quelle strutture che potrebbero dare anche uno svolto importante al turismo. Il 24 e 25 settembre saremo tutti a Palermo, consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari e semplici cittadini per scambiarci opinioni e raccogliere anche nuove idee da portare all'interno delle istituzioni. Noi siamo la vostra voce, quindi partecipate numerosi. Se potete, chi può, piccole donazioni, quello che potete, sostenete Italia 5 Stelle.